C'è un percorso sulla vendita, ma intesa non come metodologia, come tecnica di vendita, ma sulla cultura della vendita. Quindi ci sono diversi aspetti che vengono trattati. L'obiettivo è quello di dare contenuti nuovi, ma soprattutto quello che permette di sviluppare al meglio la consapevolezza di quale sia la funzione commerciale, la funzione delle vendite all'interno dell'azienda. Quindi non è basato sulla motivazione, o la motivazione è una parte, ma è basato anche sugli economics, è basato su tecniche di conoscenza del mercato e soprattutto anche le tecniche di conoscenza dei clienti. Quindi è un qualche cosa di molto più completo rispetto al classico corso sulle tecniche di vendita.